Buongiorno, anche se sono già le 4 del pomeriggio, stamattina in pratica non abbiamo fatto niente oggi è sabato e manca poco che si riparte, lunedì ho la nave che ci riporta a Napoli però prima di partire, prima di tornare a casa, mi ero detto di arrivare lassù, arrivare alla rocca di Cefalù quindi oggi andiamo, tenetemi compagnia, gambe in spalla e via non è proprio ideale, la temperatura sono circa 29 gradi non sembra che si rinfrescherà a breve, a brevissimo perlomeno stavo leggendo i primi commenti del video precedente, il video numero 3, il vlog numero 3 io alla riserva dello zingoro ci sarei voluto andare anche volentieri ma prima non avevamo il costume e secondo il tempo era poco quindi volevamo soltanto guardare com'era questo famoso San Vito d'Ocapo ho letto che per arrivare alla rocca bisogna pagare un biglietto di 4 euro ci può anche stare, vediamo com'è il servizio però ok ho fatto il biglietto, il signore mi ha detto, mi ha avvisato ci vuole un'ora e mezza per fare il saliscendi e per le 7 devo aver lasciato la struttura, l'impianto chi mi conosce un po' meglio sa che a me piace molto camminare e mi piacciono soprattutto le sfide mi sono anche iscritto quest'anno alla Francigena Ultramarathon sono 120 km da fare in 36 ore da Siena ad Acquapendente l'ho fatta anche l'anno scorso sono riuscito a fare soltanto, tra parentesi, 80 km ma non manca qualcuno? caro Dario tu vuoi anche a farti questa bella scarpinata sotto al sole io me ne vado un pochino spiaggia consigliano di portarsi dietro un berrettino? fa veramente caldo forse è meglio venire a primavera o a autunno i cartelli che ho incontrato finora sono tutti bruciati ovviamente col caldo si sono rovinati però bastava cambiarli anche una volta all'anno era una cosa fattibile chi sta dicendo che non ho le scarpe adatte ovviamente è vero ma ho solo queste ho portato solo queste con l'infradito mi sembrava una certa cosa questa è la domanda eterna a destra o a sinistra? io penso che prima andiamo al castello per rimanere in ambito fotografico o perlomeno videografico vi dico l'impostazione adesso della videocamera della Sony priorità diaframma nel video quindi non devo occuparmi del tempo il tempo va da 100 in su è una gran cosa ragazzi non si può vloggare così e impostare la macchina fotografica f4 ISO automatico sto registrando in HDR nell'hybrid log e sto esponendo un terzo di stop in più più in là vi mostrerò anche come faccio la post produzione dei miei video che sto continuando a fare youtube sto anche specializzandomi in video anche se spesso si sbaglia lo ammetto ma è abbastanza divertente perché è venuto all'incontro che abbiamo fatto a Palermo insieme a Enzo e Alessandra e si sta chiedendo il perché non ho pubblicato neanche una foto dell'incontro né su Instagram né qui su YouTube vi assicuro che non ho per sbaglio cancellato la scheda SD dopo aver importato i video e a proposito a breve uscirà il video sul canale di Enzo e Alessandra e mostrerà proprio le foto fatte dagli iscritti che sono venuti all'incontro ci farà un video dedicato mazza quanto si sale lunedì il giorno che parto la mattina sono di nuovo a Palermo e mi incontro con Enzo abbiamo intenzione di riprendere di registrare almeno un video per i canali e sarà un Q&A ho già chiesto su Instagram se non lo conoscete seguitemi su Instagram di farmi delle domande delle domande personali o professionali e vi rispenderemo entrambi quindi sotto nei commenti fatemi le vostre domande ok ragazzi bisogna arrivare là su guardate quanta strada è tutta il sole adesso però levo la macchinetta che se no cammino male la ritiro fuori qua per fare due foto che vi metto anche nel video e ci vediamo dopo guardate che spettacolo non manca ancora tantissimo bisogna arrivare fino all'assu sopra ok forse sono arrivato a qualcosa magari alla rocca questa dovrebbe essere l'entrata è uno dei punti più alti quanto mi piacerebbe avere un display orientabile non avete idea in certi momenti anche un gimbal mi farebbe piacere avere ok arrivati mi sembra che ne valsa veramente la pena ok penso che questo sia un buon punto per fare due chiacchiere stavo leggendo i commenti che mi avete fatto nell'ultimo video e vi devo ringraziare per i commenti che mi scrivete e vi devo ringraziare soprattutto alle critiche che mi scrivete un signore infatti mi ha scritto che non trova gradevole il montaggio che ho fatto che ho utilizzato perché faccio secondo lui troppi sbandieramenti cioè i movimenti da destra verso sinistra e da sinistra verso destra mi dice che forse ho avuto poco tempo per il montaggio e quindi è venuto in quel modo ma lo devo contraddire perché il montaggio io mi lascio sempre abbastanza tempo e non faccio le cose di corsa perché so che sbaglio se le faccio di corsa vorrei chiedervi di scrivermi un commento sotto a questo video e dirmi che pensate del montaggio di questi video questi video e vlog che sto facendo adesso in Sicilia scrivetemelo nei commenti se siete d'accordo con il signore quindi io farò in modo di cambiare il modo di montaggio che sto attuando e o se invece lo ritenete se è accettabile scrivetemelo nei commenti sono curioso ok ora piano piano comincia a scendere di capri ce ne dovrebbero essere molte alle 7 chiudono anche d'estate quindi è impensabile venire a fare le foto di notte qua sopra sarebbe bello ok sono le 5.20 e sono uscito dal cancello ammetto che devo essere stato nella parte archeologica nel sito archeologico e me lo voglio risparmiare semplicemente non ci voglio andare perché una volta saliti fino a su sopra fino a in cima io ho di fermarmi al sito archeologico che è molto più basso non mi andava ci rivolrò a quell'isa magari il prossimo anno per il resto vale la pena 100 volte salire qua sopra perché c'è veramente una vista mozzafiato e quindi 4 euro e sono veramente investiti bene ok adesso si torna alla macchina si va a casa si fa una veloce doccia poi si esce per cefalu grazie a tutti